Ciao a tutti, oggi siamo entusiasti di essere qui insieme a Enrico, uno dei nostri studenti che è live dall'inizio del 2023. In ora Enrico ha raggiunto impressionanti rendimenti superiori al 48% operando con un capitale limitato. E' qui per condividere la sua storia e le sue esperienze nel nostro percorso formativo offerto da Lungan Academy. Ciao Enrico, come va? Ciao Chelsea, ciao a tutti, tutto bene, grazie. Bene, bene, siamo veramente contenti di averti qui con noi oggi. Anch'io. E per cominciare vorremmo che ci parlassi un po' di te, del tuo lavoro e delle tue attività quotidiane. Sì, allora io mi chiamo Enrico, ho 33 anni, vivo a Cassino che è una piccola cittadina della provincia di Frosinone. Nel mio lavoro faccio il tecnico di distribuzione. Vivo a Cassino con la mia compagna che si chiama Beatrice, con i suoi due figli. Nel tempo libero, diciamo, normalmente vado in palestra e mi piace imparare sempre cose nuove. Infatti questo qui mi ha portato ad avvicinarmi al mondo del trading tre anni fa all'incirca. Mi sono approcciato per la prima volta al Forex, utilizzando la classica analisi tecnica, che però poi si è rivelata completamente deludente, proprio del tutto. E quali erano le tue sfide prima, cioè i problemi? Che problemi avevi prima di unirti al nostro programma? Fondamentalmente il problema principale era quello di non avere un sistema robusto, solido, stabile, soprattutto replicabile, nell'affrontare giornalmente l'operatività. Perché era basata su ragionamenti fatti praticamente di niente, in balia dell'emotività. Quindi entro prima, entro dopo, forse è meglio uscire, forse è meglio no. E quindi era completamente, era un sistema che faceva acqua in tutte le parti. Quindi avevi anche un approccio, diciamo, discrezionale rispetto al sistematico? Sì, prima il mio approccio era completamente discrezionale e infatti le cose non andavano bene per niente. E cosa ti ha motivato a scegliere il nostro programma? E ho scelto poi il percorso della Unger Academy proprio perché aveva un metodo scientifico basato su numeri, quindi robusto e stabile e soprattutto replicabile. Quindi, in più, siccome a me piace la programmazione, il fatto di dover programmare algoritmi che poi operano da soli, in automatico, nel mercato, è stata la ciliegina che mi ha fatto scendere il percorso della Unger Academy. Cambia tutto, no? È. Ok, e cosa ti ha motivato a scegliere il nostro programma anziché altre opzioni disponibili sul mercato? È questo fatto qui che praticamente, siccome il metodo della Unger Academy è un metodo basato su numeri, e quindi molto solido e robusto, in più, siccome bisognava programmare, io sono appassionato di programmazione, allora mi ha fatto scegliere questo percorso qua, questo sistema qua. Ho capito, grazie. E dopo aver messo in pratica quanto appreso dai vari moduli del programma, quali successi hai raggiunto? Allora, i risultati ci sono stati, e la cosa che più mi ha aiutato è stata quella di, una volta messo in pratica tutto quello che viene spiegato, che viene divulgato, è il fatto di conoscere, in base ai test, in base a che fai, conoscere intimamente le caratteristiche dello strumento, e quindi poi in base a questo scegliere la strategia più adeguata a quello strumento. E la cosa bella è che puoi creare una strategia che risponde bene sia alle caratteristiche dello strumento, e sia anche alle caratteristiche personali, psicologiche ed emotive, per affrontare poi il mercato e l'operatività. E c'è stato qualche aspetto in particolare del nostro programma che ti ha particolarmente aiutato nel raggiungere i tuoi risultati? Sì, praticamente il fatto di testare le strategie sui strumenti mi ha permesso di, uno, capire lo strumento che ci stava tradando, e due, le caratteristiche proprie per poter tradare quel cioppostante. Ok. E in che modo la tua vita è cambiata? Non solo economicamente, ma anche in termini di consapevolezza dopo aver conseguito questi risultati? Beh, innanzitutto, intanto sto ottenendo dei risultati che quindi non è per niente una cosa scontata, per la prima volta. E se i risultati stanno comunque sempre di più migliorando, quindi sono molto molto felice e contento della scelta che ho fatto, mi piace al vostro percorso. E dove credi che saresti ora se non avessi deciso a iscriverti al nostro programma? Beh, sicuramente, avrei sicuramente molti meno soldi. Uno perché le operazioni che venivano fatte erano tutte completamente sbagliate, quindi avrei perso molti soldi solo grazie all'operatività. E in più anche i soldi persi per i corsi fatti un po', tra virgolette, truffaldini di persone poco serie. Ho capito. E per concludere, hai qualche consiglio per chi sta guardando questa intervista e sta pensando di iscriversi al programma? Sì, se diciamo non volete perdere tempo, soprattutto soldi, e volete imparare in maniera seria e professionale questo mestiere, allora indubbiamente bisogna scegliere la Unger Academy, perché su piazza è la migliore che ci sta, sia in termini di serietà e sia in termini anche di redditività che poi ti porta nel portafoglio. Grande, grazie mille Enrico. Grazie a te. Per aver condiviso questo tempo con noi e ti auguriamo ogni successo nel trading. Grazie mille, grazie anche all'Unger Academy che crea continuamente ricchezza. Grazie, grazie mille. Un saluto a tutti, a presto. Ciao, ciao.